Nuovo porto di Pescara e Waterfront, infrastruttura strategica per la rigenerazione sostenibile. Il titolo del convegno organizzato da Confcommercio a Laurum. Entro cinque anni i lavori saranno conclusi. L'associazione ha invitato relatori esperti del mondo dell'università dell'economia, oltre a esponenti politici e delle istituzioni. Tra gli altri presenti il direttore marittimo per l'Abruzzo e Molise, Salvatore Minervino, e in videoconferenza Giovanni Pettorino, commissario straordinario autorità di sistema portuale dell'Adriatico Centrale. Sono stati affrontati gli aspetti inerenti alla rigenerazione urbana e le connessioni dello sviluppo infrastrutturale del porto di Pescara con l'entroterra. Porto che sarà ultimato, ha dichiarato Riccardo Padovano. Secondo il corno coranghe di adesso, il primo braccio, il molo che si sta realizzando oggi, intorno a due anni, è definitivamente concluso. Poi, io credo che in un quinquennio riusciamo a portare la definitiva struttura portuale, che sarebbe la deviazione del fiume Pescara, la darsena commerciale dove possiamo far ormeggiare, ieri sono stata a Lancona, sono andato a vedere una nave di 110 metri, e quindi ci sono le condizioni tutte, da qui a cinque anni, di avere veramente il porto, ma non il porto che avevamo quando c'è stato attenziale, di più. Se lo augurano soprattutto gli operatori commerciali e marittimi che lavorano grazie al porto, insabbiato ora con i pescherecci in continua difficoltà. Padovano afferma che bisogna lavorare in sinergia per attuare questa importante infrastruttura. Il porto di Pescara è nella città di Pescara, bisogna certo pensare a riqualificare tutto quello che sono le banchine, le case dei pescatori, la nuova asse attrezzato che si collega al porto di Pescara, tutto questo io credo che debba essere pensato tra più attori. Gli attori che sono? Noi abbiamo, con questo convegno di oggi, abbiamo cercato di stimolare la politica, oggi sarà il sindaco che ci rappresenterà i suoi, diciamo, progetti, ma ci sta anche l'università che potrebbe dare un grande supporto a questa macchina organizzativa, tecnica, amministrativa. L'ex Cofa, via Andrea Doria, le banchine, il percorso che va via delle caserme fino ad arrivare al porto, noi dobbiamo incominciare a immaginare che il nostro fiume diventi un parco. Per realizzare questo c'è bisogno di capacità, di conoscenza sui waterfront che hanno fatto in altre città. Certamente una rigenerazione urbana fatta con le dovute opportunità riconquista anche il territorio sotto l'aspetto delle imprese, ecco perché ConfCommercio oggi è presente.